Allora, signore e signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Allora, signori, un grande applauso alla maestra Nathalie Gentili con Danza del Vento. Grazie